Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal cuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, e la Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando, perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, perventi religiosi e religiose e missionari, alla Tua Chiesa. Meditiamo i misteri del dolore. Il primo mistero ci porta nell'orto di Getsemani. Gesù prega e soffre fino a sudare sangue, una sofferenza inaudita, perché prende su di sé il peso dei peccati di tutta l'umanità. Ma li prende non come se fosse un sacco esterno, ma immergendosi nei nostri peccati. San Paolo arriva ad usare questa parola. Si fece maledizione per noi, per collocare dentro questa storia, che è diventata così cattiva, per collocare un infinito atto di amore, in modo che chi apre il cuore a questo amore è salvo, è rinnovato. Chiediamo la grazia di aprire veramente il cuore, il nostro cuore, all'amore di Gesù. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà che non si difende e si lascia crocifiggere è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Gesù, abbi pietà di noi, peccatori. Diciamoli insieme. Gesù, abbi pietà di noi, peccatori. Padre nostro che se ne siedi, ti ha santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Si ha fatto la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando, perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, perventi religiosi, religiosi e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette avanti la scena di Gesù crudelmente flagellato dai soldati. Ma attenti bene, i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché i peccati sconvolgono l'ordine bello che Dio ha impresso nella creazione. E così ci facciamo tanto nel male. Pensate, Isaia arriva a dire, per i vostri peccati voi siete diventati come un muro pieno di crepe che all'improvviso crolla. E la Madonna, pensate, nel 1846, apparendo alla Salette in Francia, disse ai due pastorelli, avvisate la gente, avvisate il popolo, che per i loro peccati tutto il loro raccolto della campagna marcirà. E così accade. Il peccato fa veramente male, agisce in maniera negativa nella storia. Nel 1917, a Fatima, la Madonna ha detto ai bambini, ai pastorelli, dite che l'umanità smette di peccare, che gli uomini smettono di peccare, perché la guerra sta per finire, ma se continuerà a peccare scoprirà un'altra guerra. Poi direte, ma a che c'entra la guerra con i peccati? Come? Perché la guerra ci stacca da Dio. E staccati da Dio, noi siamo come parte, una parte impazzita dell'umanità. È quello che sta accadendo. Padre nostro. Che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione, di Maria immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla Tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù, che viene coronato di spine, deriso e umiliato dai soldati. Eppure, proprio in quel momento, davanti a Pilato, Gesù ha la divina sicurezza di dire, il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà, e noi siamo il popolo che lo attende. Il mondo che verrà, non lo dobbiamo preparare. Sarà il mondo liberato dal mare, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che lo chiamiamo Paradiso. E noi sappiamo che la vita è un cammino verso questo mondo, e con la nostra bontà, con la nostra carità, lo dobbiamo in qualche modo preparare e anticipare. Padre nostro che se ne sieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amè. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amè. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amè. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amè. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amè. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amè. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amè. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amè. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amè. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amè. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amè. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, Santi Genitori, Santi Vescovi, Sacerdoti e Diaconi, perventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero del dolore, seguiamo Gesù, che viene caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario, accompagnato dalla sua Santissima Madre, sempre fedelmente accanto, fino all'ultimo respiro sulla croce. Andriamo insieme con l'immagine che vi è stata consegnata. O Maria, in quel figlio tu abbracci ogni figlio e senti lo strazio di tutte le mamme del mondo. O Maria, le gelatime passano di secolo in secolo e ridano i volti e piangono il pianto di tutti. O Maria, tu conosci il dolore, ma credi, credi che le nuvole non spengono il sole, credi che la notte prepara l'aurora. O Maria, tu hai cantato in magnifica, intonaci il canto che vince il dolore, come un parto da cui nasce la vita. O Maria, prega per noi, prega perché arrivi anche a noi il contagio della vera speranza. Amen. Padre nostro. Che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Pai, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, per venti religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta sul Calvario. Osserviamo Gesù, crocifisso, attaccato alla croce dei chiodi della cattiveria umana. E dalla croce, dalla croce di Gesù, parte un urlo, un grido di amore, un grido di bontà, che attraversa i secoli e arriva qui e qui, fino a noi. Chi sente quel grido diventa Sant'Agostino. Chi sente quel grido diventa San Francesco. Chi sente quel grido diventa San Vincenzo dei Paoli. Chi sente quel grido, quell'urlo diventa Mare Teresa di Calcutta. Diamo anche la nostra risposta. O Gesù, Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero cudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Ce l'accorgiamo ogni giorno. Torniamo a te, unica speranza e unico liberatore, unica gioia e unica verità, che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Padre nostro che se ne siedi, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amano. Per intercessione, di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diafoni, per venti religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Salve, Oregina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve, a te ricorriamo, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi, misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà, Signore, pietà, Cristo, pietà, Cristo, pietà, Signore, pietà, Signore, pietà, Dio, Padre, nostro Creatore, abbi pietà di noi, Dio, Figlio, nostro Redentore, abbi pietà di noi, Spirito Santo Amore, abbi pietà di noi, Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergine, prega per noi, Santa Maria, prega per noi, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della Misericordia, prega per noi, prega per noi, Santa Maria, prega per noi, prega per noi, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre della Speranza, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, prega per noi, Madre Castissima, prega per noi, Madre sempre Vergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Santa Maria, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre Ammirabile, prega per noi, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, Santa Maria, prega per noi, Madre del Creadore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Vergine prudente, prega per noi, Santa Maria, prega per noi, Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Santa Maria, prega per noi, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, specchio di perfezione, prega per noi, Santa Maria, prega per noi, sede della sapienza, prega per noi, prega per noi, sede della nostra gioia, prega per noi, prega per noi, sempre del Spirito Santo, prega per noi, Santa Maria, pregate in noi, cavernacolo dell'eterna gloria, pregate in noi, dimora consacrata a Dio, pregate in noi, la sapistica, pregate in noi. Santa Maria, pregate in noi, o re della santa città di Davide, pregate in noi, cortezza inespugnabile, pregate in noi, santuario della divina presenza, pregate in noi. Santa Maria, pregate in noi, arca della alleanza, pregate in noi, porta del cielo, pregate in noi, della del mattino, pregate in noi. Santa Maria, pregate in noi, salute degli infermi, pregate in noi, rifugio dei pecatori, pregate in noi, comporto dei migranti, pregate in noi. Santa Maria, pregate in noi, pregate in noi, pregate in noi, pregate in noi, regina degli angeli, pregate in noi. Santa Maria, pregate in noi, pregate in noi, pregate in noi, pregate in noi. prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, tanto amore io, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi, regina dei confessori della fede, prega per noi, regina delle vergini, prega per noi, Santa Maria, prega per noi, regina di tutti i santi, prega per noi, regina concepita senza peccato, prega per noi, regina assunta in cielo, prega per noi, prega per noi, Santa Maria, prega per noi, regina del rosario, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, regina della pace, prega per noi, regina del rosario, prega per noi, regina del rosario, prega per noi, regina del rosario, prega per noi, 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 affinché siamo fatti degni delle promette di Cristo. Guarda il cumulo di nodi, di problemi della nostra vita. Tu conosci le nostre preoccupazioni, i nostri dolori. Sai quanto ci paralizzano questi nodi, oh Maria. Tu sei incaricata da Dio di sciogliere i nodi, i nodi della vita dei tuoi figli. Mettiamo il nastro della nostra vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c'è un nodo che non possa essere sciolto. Vergine potente, con la grazia e il tuo potere di intercessione per essere tuo figlio Gesù, nostro Salvatore, ricevi oggi questi nostri nodi. Ognuno metta nel cuore di Maria il problema che gli sta più a cuore. Per la gloria di Dio ti chiediamo di scioglierli e di scioglierli per sempre. Speriamo in te, sei l'unica consolatrice che Dio ci ha dato, sei la fortezza delle nostre forze precarie, sei la ricchezza delle nostre miserie, la liberazione di tutto ciò che ci impedisce di essere con Cristo. Accoglie la nostra supplica, preservaci, guidaci, proteggici, sii il nostro rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli affatto, sempre e sempre. Vi benedica, vi protegga, vi illumini, di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amén.